Mosca si prepara a reagire al bando delle linee aeree russe disposto dall'Ucraina, quella del governo di Yatsenyuk è, secondo i russi, una mossa stupida e controproduttiva che non mancherà di avere risposte simmetriche. In seguito alla decisione dei separatisti dell'Ucraina orientale di indire elezioni locali, Kiev ha deciso di tagliare i voli operati da Aeroflot, Transaero e altre due compagnie minori russe. Gli aerei russi, con la bandiera russa, non sono benvenuti negli aeroporti ucraini, in quanto poi ai trasporti cargo per via aerea e ferroviaria, il passaggio sul territorio ucraino o nello spazio aereo ucraino è vietato per i trasporti di materiale militare, di truppe o a doppio uso civile e militare, precisa il capo del governo ucraino. Nello stesso tempo Kiev vieta anche l'uso di software russo, a partire dal noto antivirus Kaspersky. Nonostante il conflitto nell'Ucraina orientale e il gelo tra i due governi, le relazioni tra i due paesi sono molto intense a livello economico e sociale, la preoccupazione non è poca. Non è ancora chiaro se si creeranno alternative a quei collegamenti, sottolinea il corrispondente di Euronews. La gente è preoccupata perché probabilmente la Russia introdurrà sanzioni simili contro le compagnie aeree ucraine e a quel punto non ci saranno voli tra i due paesi.